È stata una ricostruzione lucida, precisa e ricca di dettagli, quella del maresciallo dei carabinieri Pietro Rizzo, sentito nel corso dell'udienza del processo a padre Graziano, accusato dell'omicidio di Guerrina Piscaia. Il maresciallo, uno dei sette testimoni chiamati a deporre dalla pubblica accusa, è stato ascoltato per oltre un'ora. Ha ricostruito la serata del 1 maggio 2014, in cui furono svolte le primissime attività di ricerca della donna. Ha raccontato che nella notte attivò immediatamente le ricerche, fece accertamenti nell'abitazione di Guerrina ed infine chiese per ben due volte alla centrale operativa di Arezzo l'attivazione del localizzatore per poter individuare così il cellulare della cinquantenne, ricerche che non portarono però alcun frutto. Il telefono della donna era infatti spento. Sempre il maresciallo ha poi ripercorso le attività di ricerca con le unità cinofile. I cani, una volta all'interno della canonica, avrebbero annusato e buttato a terra per ben due volte un cuscino che si trovava sopra un divano all'interno del locale, evidenziando così il passaggio della casalinga all'interno della canonica. Nel corso dell'udienza il militare, con tanto gli orari e tabulati telefonici, ha raccontato anche di non aver visto padre Graziano la notte della scomparsa, aggiungendo di non averlo incontrato nemmeno il 2 maggio quando prova a chiamarlo, ma il frate prima non rispose e poi non si presentò all'appuntamento con il militare, dicendo di trovarsi a Sansepolcro per alcune pratiche migratorie per un connazionale. Rizza ha poi parlato di una testimonianza, ritenuta all'epoca attendibile, che avrebbe avvalorato l'ipotesi dell'allontanamento volontario. Una donna, infatti, affermò di aver visto Guerrina Nova Feltra il 2 maggio. Intanto padre Graziano trascorre le ultime ore nel carcere aretino di San Benedetto. È stato infatti trovato il braccialetto elettronico e quindi lunedì potrà essere trasferito nel convento romano dei Premo Stratensi, dove proseguirà la custodia cautelare alternativa. Gli agenti della polizia penitenziale del carcere di Arezzo scorteranno padre Graziano al convento di Roma. Il religioso tornerà ad Arezzo per le prossime udienze, accompagnato dai suoi legali.